I notturni di Ameria Radio a cura di Massimiliano Sansa Amici di Ameria Radio, buonasera, benvenuti alla puntata del venerdì che conclude la settimana dei notturni di Ameria Radio che, come di consueto, dedichiamo alla musica barocca. L'autore che andremo ad ascoltare questa sera è Gaspar Sanz, pseudonimo di Francisco Bartolomé Sanz Selma. È un compositore spagnolo nato nel 1640, morto nel 1710, quindi siamo nel periodo tardo-barocco. È considerato il miglior teorico spagnolo del XVII secolo sulla chitarra. I suoi tre libri sono tuttora il metodo più importante per chitarra a cinque ordini della penisola iberica. Conseguita la laurea in teologia presso l'Università di Salamanca e presi degli ordini sacri, Gaspar Sanz, attratto dalla spiritualità della musica, si dedica allo studio della teoria musicale della chitarra e dell'organo. Permane lungo tempo a Napoli con l'incarico di organista della Cappella Reale e istruttore privato del vicere, il principe Juan José de Austria, a cui dedica ai tre volumi Istrucción de la musica sobre la guitarra espagnola, pubblicato nel 1697 al suo rientro in Spagna. È questa la raccolta che ascolteremo questa sera, ovviamente solo il primo libro, perché è composto da molti brani, da tre libri innanzitutto, e comunque di notevole importanza musicale. Come dicevo, comprende 90 pezzi, tra preludi, fantasie, fughe, passacaglie, pavan e gagliarde. A forme più convenzionali si affiancano esempi di canzoni popolari e danzi, i cui metri fanno presagire il linguaggio della chitarra flamenco. Teniamo ben presente che siamo alla fine del 1600, quindi siamo agli albori del 1700. Nei tre volumi sono compresi anche modelli armonici, appunti e consigli tecnici sullo strumento che da questo momento raggiunge uno status di strumento serio paragonabile al linguaggio. Questa sera noi ascolteremo 20 brani tratti dal primo libro e saranno eseguiti da Beatrice Pornon alla chitarra, Edoardo Egez alla chitarra, Rolf Lisverand sempre chitarra e Adela González Campa alle nacchere. Massimiliano Sama sa vi auguro un buon ascolto e una buonanotte con i netturni di Tamelia Radio. Sama sa vi auguro un buon ascolto Sama sa vi auguro un buon ascolto e una buonanotte con i netturni di Tamalia. Sama sa vi auguro un buon ascolto e un buon ascolto e un buon ascolto Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 a tutti.